E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal video venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte andremo ad approfondire soprattutto la giornata di ieri perché è stata una giornata comunque di dump del prezzo di bitcoin che è sceso al di sotto dei 30.000 dollari siamo andati a toccare quasi 28,5 28,7 in quelle zone lì e andremo a vedere anche i dati delle liquidazioni che sono già qua caricati belli pronti detto ciò non perdiamo altro tempo vi invito a dare un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione e partiamo partiamo appunto da questi dati dati delle liquidazioni che sono sempre abbastanza interessanti per andare a comprendere quello che è nelle 24 ore il volume di dollari sui derivati che sono stati liquidati ebbene arriva a 300 milioni di dollari concentrati principalmente appunto sull'origine del dump che derivano principalmente pensate non da bitcoin ma da ethereum per 69 milioni da ethereum da 66 milioni su bitcoin e poi dogecoin con 12 milioni ricordiamo un tempo quando appunto solana era un po' più in hype soprattutto in quei momenti lì ricordavamo sempre solana magari come terza coin proprio per volumi scambiati in questo momento è stata passata da dogecoin proprio per anche un questione forse di meme coin che abbiamo visto veramente esplodere in queste giornate che può essere anche un top signal tranquillo però insomma è dovuto anche un po' a quello e anche un arbitrum che comunque mantiene i suoi volumi interessanti quindi è anche un indice di questo per l'89% dei volumi aggregati si parla di liquidazioni long chiaramente ricordiamo sempre che non è completamente long perché magari si va a shortare in un momento in cui c'è un bounce back quindi si va in liquidazione e principalmente appunto binance chiaramente come volumi che va a dominare con l'88% long stavo un po' guardando se c'era qualche dato anomalo però più o meno eravamo là bitmax 98% long praticamente tutti i bitmax basta vedete appunto proprio la liquidazione che deriva principalmente dai long ed era un valore che non assistevamo forse al valore un po' più alto in termini proprio numerici da inizio anno da inizio anno andiamo a vedere quello che sta accadendo invece a Coinbase perché è un po' una storia che continua nel senso sappiamo la situazione negli Stati Uniti sappiamo la SEC che va a sparare con Gary Gensler su tutto security o meno come si va a minare il business fondamentalmente americani questo è quello che è emerso un po' dalle contestazioni che sono arrivate nei confronti della SEC e infatti pensate Coinbase comunque ha ottenuto una licenza le bermuda dove potrà andare a emettere derivati, token, vendita di token eccetera senza problemi un po' quello dove effettivamente tanti exchange vanno a lavorare appunto per avere delle regolamentazioni più permissive e senza problemi e appunto tutto ciò andava anche a essere commentato da Brian Armstrong a novembre 2022 dove si parlava di FTX come fosse un exchange offshore non regolamentato dalla SEC e il problema dice proprio che è la SEC che crea appunto problemi per gli Stati Uniti e gli investitori americani che poi vanno chiaramente a lavorare offshore e quindi vanno a punire le compagnie americane che lavorano in America appunto e questo non ha senso ed è ovvio perché di base è come dire tu vieni da me sei sul mio Stato produci tot utile ma cerco di mettere i bastoni tra le ruote invece che cercare di avere gettito fiscale da queste entità che possono essere un ottimo contributo ok proprio perché se si pagano tasse lo Stato deve essere solo che contento invece si va a sfavorirle a mettergli i bastoni tra le ruote nel loro business e allora quindi vanno a spostarsi all'estero in stati e in regolamentazioni molto più tranquille che le permettono di avere un win-win alla fine con lo Stato di appartenenza abbastanza direi che si commenta da solo non serve aggiungere molto però insomma prepariamoci a vedere un Coinbase che magari tornerà ad essere abbastanza aggressivo sul mercato rispetto alle limitazioni che chiaramente ha dovute alla regolamentazione che gli viene imposta o meglio quella che dovrebbe venire imposta non si sa ancora quale sia effettivamente al 100% notizia di ieri invece che Tesla sui suoi report nel Q1 2023 non abbia indotto alcun Bitcoin quindi continua a fare l'odler in Diamond Dance chiaramente alcuni nei commenti fanno notare come ne ha neanche comprati Bitcoin in questa fase quindi mancando forse un buy the dip però in ogni caso non è andata a liquidare nessuna porzione delle sue rimanenze in Bitcoin che comunque ricordiamo Tesla essere uno dei primi 5 attori istituzionali a detenere Bitcoin per quantitativo circa mi pare 320 milioni di dollari non vorrei dire un valore errato però più o meno siamo su quella cifra lì e su questa cifra qui vi ricordo questo airdrop di Zumex ma perché ve lo ricordo? Non perché voglio riscillarvelo ma perché sono riuscito ad ottenere un 25 dollari non più 10 ho chiesto se sarà possibile aumentare ho ascoltato i vostri feedback e mi hanno confermato che siamo riusciti a portarla a 25 USDT che verranno airdroppati a chi esegue appunto queste semplicissime operazioni e chi è già dentro mi sono assicurato che venga riportato a 25 quindi non più 10 ma 25 quindi non dovete preoccuparvi come fare? Semplicemente clic su questo link qua mi raccomando essere questo perché poi nel Google Forum vanno a verificare effettuare un deposito di almeno 100 dollari in coin quindi USDT o altro state un attimino larghi non state proprio al centesimo perché è un sistema automatizzato che va a pescare poi i nominativi elegibili quindi capite che se fate al millesimo magari si rischia quindi state un po' più larghi magari 102-103 dollari effettuate un trade di almeno 1000 dollari vi ho fatto qua l'esempio 100 USDT in leva 10 chiudendolo subito non si perde nulla si immunizza poi con i vostri soldi potete fare quello che volete compilate questo Google Form dove vi chiede due dati di incroce e appunto senza che essi e senza paesi particolari di residenza si va ad avere un airdrop sul vostro account ritirabile quindi non è trading bonus, ritirabile di 25 USDT quindi più del doppio di quelli di ieri di 10 USDT ovviamente vale sempre per i più di 200 account non ce ne sono ancora tantissimi posti mi pare erano già stati fatti fuori più o meno la metà però insomma quindi chi è interessato raise per 2,5 quindi non male dateci un'occhiata crypto top gainers velocemente bit torrent più 10% render più 4 gemini e dollar più 0,84 siamo alle stable quindi direi nulla di che tra i losers ne abbiamo chiaramente molti di più conflux meno 11, mina meno 11, zillica meno 10, singularity meno 10, vnetwork meno 10 lo vedete siamo tutti più o meno su un valore di un meno 10, un meno 8 questo perché di base bitcoin come vi dicevo nella giornata di ieri è andato a chiudere dopo un engulfing bullish, un super engulfing bearish quindi ci ha fatto un fake pump di ritorno sui 30.000 dollari abbondanti siamo andati a chiudere sulla 26, 26 che è andato a tenere molto bene quindi alla perdita vedete quanto è importante osservare queste medie mobili veloci perché alla fine ci danno un ottimo supporto supporto per il momento confermato sui 28.700 piccolo bounce back ovviamente serve continuazione lo vediamo anche a livello orario come effettivamente volumi per il momento non ce ne sono non se ne palesano particolari quindi serve che entri un po' di forza per riportarci almeno in queste zone qua dei 29.4 ritornare in lateralità sull'orario e recuperare altrimenti rischia quello di fare un pattern di questo tipo che abbiamo già iniziato a fare quindi lo massimo appunto decrescente minimo decrescente si cerca un massimo magari decrescente minimo decrescente quindi andiamo a continuare con un pattern scusate non so se si sta vedendo tutto penso di sì ve lo zoom ecco così forse si vede meglio comunque dicevo con un pattern vedete di minimi e massimi decrescenti dobbiamo cercare di invalidare questa situazione il prima possibile stessa cosa vale su ethereum che ha sofferto anche lui abbastanza ma è tutto molto correlato un po' forse anche sulla base del land stake diciamo da parte di binance di ether però secondo me è un po' una scusa diciamo in questa fase è uno scarico comunque che ci può stare a fronte di una salita comunque molto importante del prezzo prezzo che eventualmente sosta sui 1954 comunque la giornata di ieri è stata una giornata anche un po' ve l'ho commentata su twitter di shake out ok? sono giornate che ci sta che il prezzo va comunque a stornare va un po' a shakerare va un po' a resettare anche le posizioni di mercato che chiaramente poi vanno a essere diciamo maggiormente pulite e ricostruite nel tempo sono situazioni che comunque fanno parte diciamo dei mercati del gioco quindi non dovete spaventarvi di fronte a una piccola o meglio a una prima correzione dopo un uptrend molto forte in ogni caso siamo qua tutti i giorni a valutare le condizioni e a commentarle e a vedere appunto come si mette la situazione perché non siamo i veggenti di turno io spero davvero che questo contenuto sia stato di vostro interesse e di vostro gradimento se così vi invito a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati in descrizione trovate tutti i link tutte le promo anche l'ultima di cui vi ho detto che è ancora più folle di prima detto ciò non aggiungo altro vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto con un prossimo video ciao a tutti ragazzi grazie grazie